È arrivata una lettera da parte della Commissione europea, è arrivata al governo italiano, con la notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia europea che ci ha condannato nel 2015 per reato ambientale. E dunque ci viene ricordato in questa lettera che la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di Euro 120.000 per ciascun giorno di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie a conformarsi alla sentenza dell'Unione europea. E dunque ci hanno mandato un decreto ingiuntivo per pagare il semestre luglio 2016, gennaio 2017 per 22 milioni di euro, cioè 120.000 euro al giorno per 184 giorni. 22 milioni di euro. Questa è una delle eredità che noi abbiamo ricevuto dalla precedente giunta regionale, a cui si aggiunge un'altra eredità, un miliardo e 300 milioni di disavanzo del bilancio 2013, che ci era stato contestato, miliardo e 300 milioni di disavanzo dalla Corte dei Conti. Il governo ha preso ieri una misura per un chiarimento che chiede alla Regione Campania. Ci vedremo la prossima settimana con il Ministro De Vincenti, il Ministro Costa, il Ministero dell'Economia, per spiegare come pensiamo di affrontare questo debito. Nessuno ci può chiedere di pagare un miliardo e tre, se no ovviamente consegniamo le chiavi della Campania a chi se la vuole gestire. È chiaro che dovremo tentare di convincere anche il governo, ma c'è credo piena disponibilità a capire i problemi e a dare una mano a dilazionare nel tempo il pagamento di questo miliardo e tre. L'altro elemento di eredità che abbiamo ricevuto erano i 150 milioni di euro di debiti con Trenitalia. In quel caso abbiamo chiuso la transazione a 120 milioni. Volevo ricordare questa cosa per ricordare agli amici dell'opposizione e della Forza Italia che continuano a dire stupidaggini, magari sulle spese per la comunicazione, perché non riescono a leggere neanche i numeri, che farebbero bene a starsene zitti per i prossimi 30 anni, per il disastro che hanno realizzato in Campania e per i debiti, le montagne di debiti che ci hanno lasciato, oltre che le montagne di problemi per i trasporti, per la sanità e per l'ambiente che ci hanno lasciato in eredità.